Senti, più contento o più diciamo pensieroso per l'episodio? Eh, un po' tutte e due. La competenza supera la... Un po' tutti e due, perché comunque mi è dispiaciuto. Io sono entrato forte, ma non era a voler mio fargli male. Il primo gol tra i professionisti, il primo gol con la vigore la mezza, io di questo sono contentissimo, ancora di più perché ha contribuito per ottenere i tre punti, quindi io sono contentissimo. Riprendo quello che dice Mister Quarta, noi come giocatori, staff e società stiamo tutti vicini al Mistre e alla famiglia. Abbiamo un certo convinto ad andare su quella punizione in carriera dove ci ha segnato ma che erano giovanili un po' più... Sì, sì, io ho sempre calciato punizione, ho sempre calciato punizione. È andata bene, è andata bene, un po' il terreno forse mi ha aiutato, però dai, sono contento. Con le bombe, per vedere. Ho trovato anche la seconda volta. Eh, sono andato un po' troppo indietro con il corpo e l'ho alzata troppo. Cosa pensi degli applausi durante e dopo la partita? Ma è bellissimo, è bellissimo, non ho mai sentito queste cose, è straordinario, è bellissimo, sono contentissimo. Adesso siete a 50 punti, ricorda mezza Catanzaro e Perugia, insomma, vi potete almeno il playoff, dovrebbe essere il cassaforte però, un pensierino per il secondo posto. Sì, noi pensiamo partita per partita, sempre il solito discorso. È importante, andiamo avanti partita per partita, cerchiamo di portare a casa più punti possibili. A chi dedichi il tuo primo volo tra i professionisti? Ah, sicuramente al mister, alla famiglia. Senti, su quella entrata hai colpito la palla prima? Sì, sì, assolutamente, non era voler mio... E il mister un po' non la pagina, volava l'espulsione a due? No, non era voler mio, forse mi è scivolato un po' il piede d'appoggio, perché abbiamo fatto ginocchio e ginocchio, quindi infatti a me è uscito sangue dal ginocchio. Non era voler mio, io chiedo scusa anche in diretta, non era voler mio, non sono quel tipo di giocatore io. Abbiamo sentito un altro video, ma sicuramente come dici tu? No, è toccato la palla, 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 è toccato l'avversario. Io, mi dispiace, però molte volte entrare convinti sul pallone o ti fai male tu o si fa male l'altro, quindi mi dispiace, io chiedo scusa in diretta, ma sono cose che capitano. Ok, grazie.